La risposta precisa esatta a quello che è stato il motivo per cui oggi non si è vinto, è difficile, è dura, va analizzata una gara, va analizzata la situazione, i ragazzi sapevamo e l'avamo anche detto magari in qualche dichiarazione, in qualche intervista che la parte più difficile sarebbe stata la prima partita, la prima parte della gara dove abbiamo avuto delle difficoltà oggettive nel tenere il campo, nel prendere le distanze, nel tenere il ritmo e queste situazioni ci hanno messo chiaramente in difficoltà, con poca lucidità anche nelle scelte delle giocate, però poi alla fine i ragazzi nel complesso hanno ripreso un po' il ritmo, hanno ripreso le distanze, hanno creato una situazione, un'occasione con Sgarbi nel primo tempo, un'altra con Regione nel secondo tempo, è chiaro che ci si aspetta sempre quel qualcosa in più, sapevamo che non sarebbe stato affatto facile, però alla fine loro oltre ad impensierirci su qualche situazione dei piazzati, sono stati rispetto a noi e per cui poi hanno portato a casa la vittoria, sono stati bravi nello sfruttare al massimo l'episodio che si sono costruiti. Il risultato va come sempre, come sempre va a influenzare quello che è poi il giudizio finale, sull'atteggiamento che ha la squadra, sull'input che viene dato dall'allenatore, dal suo staff, però vi assicuro che anche se andiamo a vedere gli interpreti che sono stati scelti per la gara e per quanto detto anche prima della partita, non siamo venuti per cercare il pareggio, anche perché come ho sempre detto la nostra squadra non ha quella capacità di andare in gestione, di andare a fare la partita, delle difficoltà aggettive ci sono state, lo sapevamo, le abbiamo affrontate, le abbiamo vissute e questo era lo step secondo me più difficile, più importante da superare, purtroppo non siamo riusciti a superarlo indenni e questo ci vede penerizzati e ci vede costretti a fare una super partita nella gara di ritorno dove abbiamo un solo risultato e dobbiamo fare una grandissima prestazione per arrivare all'essere. No, non eravamo sotto quando è entrato Rocca, però dire ora che Rocca è un giocatore con delle caratteristiche prettamente difensive e quindi chiamarlo incontrista non va bene, Rocca è un giocatore di qualità, un giocatore che dà delle giocate, delle geometrie in mezzo al campo e quella ha la sua caratteristica precisa ed è stato chiaro che d'ausilio rispetto a Rocca ha caratteristiche più offensive perché è un attaccante esterno, ma Rocca sicuramente nel ruolo del centrocampo è uno di quelli che ha le caratteristiche offensive. non ci ha dato quello che ci aspettavamo perché chiaramente su di lui le aspettative sono sempre alte come su altri giocatori che poi andremo ad analizzare, ma non era facile, non era affatto semplice per i ragazzi avevano bisogno di riprendere il ritmo, oggi molti di loro l'hanno ripreso e cercheremo di sfruttare quanto ha preso oggi e quanto ha ottenuto oggi a livello di condizione per la gara di sabato. La gamba ha bisogno di ritmo, ha bisogno di partite per poter andare così come eravamo abituati nelle ultime partite a vederli per il motivo per cui poc'anzi ho detto che la gara di oggi e per quanto ha ottenuto a livello di condizione fisica cercheremo di sfruttarlo anche nella gara di sabato dove sicuramente avremo più minuti nelle gambe ma minuti dettati da partite vere dove c'è adrenalina, dove c'è la tensione, dove c'è il risultato dove ci sono tutte quelle situazioni che si creano all'interno di una gara è chiaro che venivamo da uno stop ma questo non deve essere un alibi ma è un dato di fatto che ci deve portare poi alla partita di sabato ad arrivare più pronti anche dal punto di vista fisico. Questo fatto finora riguarda anche Sgarbi perché Sgarbi ha giocato per gran parte della partita cercando di spingere al massimo, ha fatto una discreta partita e nel momento in cui c'era anche l'idea, l'intenzione di cambiare un sistema di gioco che abbiamo anche adottato ma la condizione fisica degli interpreti che avevamo in quel momento non ci consentiva di cambiare perché Sgarbi non ne aveva più lo stesso Gori non è stato bene in settimana e quindi non potevamo andare a dosare su un qualcosa dove non avevamo dei riferimenti dal punto di vista fisico e quindi abbiamo preferito cambiare ruolo per ruolo cercando di mettere freschezza rimettendo energie nuove con Russo e con Gori anche se alla fine tutto sommato non ci hanno dato quel qualcosa in più che ci aspettavamo ma il tempo non era nemmeno abbastanza per poter far creare qualcosa di importante.